Questo è il lavoro che abbiamo fatto con questa conferenza. Io sono estremamente soddisfatta della sua riuscita e sono soddisfatta del fatto che si sia compreso l'approccio e il punto di vista italiano e quanto possa essere innovativo. Chiaramente questo lavoro non finisce qui. La conferenza è uno dei tanti momenti in cui questo lavoro nella politica estera italiana si concretizza. Chiaramente attraverserà anche tutto l'anno della presidenza G7 perché, come sapete, intendiamo portare l'Africa anche al centro delle tematiche principali della discussione del G7. Quindi grazie, grazie a voi. Grazie, Presidente, per la presenza in questa conferenza stampa. La parola a lei. Grazie, Madame la Presidente, mi donne la parola. Grazie, Signora Presidente. Signora Presidente, Signora Presidente, Signora Presidente, Signora Presidente, non sto lungo perché la signora ha detto tutto e io sono inscritto.